D-Book è un web server di classe, che è un oggetto come questo, è proprio questo, come vedete è facilmente trasportabile, è alimentabile anche con una normale power bank da cellulari e fondamentalmente che cos'è un web server di classe? Non è nient'altro che è un oggetto alla quale ci si connette attraverso una wifi che lui stesso eroga e attraverso un device come può essere una LIM, un tablet o un computer o anche uno smartphone ci si connette e in questo modo si ha accesso a una serie di software pensati per la di dati che è sviluppati da Indire. Questi software nascono attraverso i dati raccolti durante le sperimentazioni di ricerca di Indire e quindi analizzando questi dati si capisce quali possano essere dei punti su cui intervenire realizzando uno strumento ad hoc oppure anche attraverso le esigenze che le docenti e i docenti ci espongono durante tutti i vari confronti che facciamo durante la sperimentazione. In questo modo si cerca di realizzare uno strumento che sia sempre più puntuale a soddisfare le varie esigenze che si possano presentare durante la sperimentazione che stiamo svolgendo. Il D-Book replica in questo modo una sorta di bolla internet privata, protetta e che non ha necessità quindi di avere una connessione internet presente in classe. È lui stesso un server in grado di erogare questa rete wifi. Da internet però comunque si vanno a prendere un po' tutte le varie metodologie con cui si opera, quindi c'è un libero scambio di informazioni, di conoscenza e le modalità di lavoro, quindi per questo motivo si basano attraverso la condivisione e la collaborazione. Attraverso questi software si sviluppano quindi dei percorsi didattici, si svolgono delle attività all'interno della quale i ragazzi e anche i docenti, perché no, riescono ad acquisire delle nuove competenze. Queste nuove competenze verranno poi documentate attraverso degli elaborati, dei contenuti scritti sia dai ragazzi che dai docenti e questi contenuti andranno un po' a raccontare l'esperienza che si sarà svolta in classe, cercando di andare ad indicarne un po' tutti i punti salienti, quindi le difficoltà, i pregi che si saranno tenuti e i risultati raggiunti. Questi contenuti poi saranno raccolti all'interno di un diario di classe collettivo, nient'altro che un blog, che appunto sarà a disposizione sempre di tutti i ragazzi e i docenti. C'è un momento in cui il d-book può anche uscire dalla sua bolla. Diciamo che in un momento diverso da quello delle attività, il docente potrà collegare alla LAN il d-book e connettersi in questo modo ad un reposito di indire. Sul reposito di indire potrà sia caricare quei racconti, quelle documentazioni che in qualche modo saranno ritenute di particolare importanza e quindi adatte alla condivisione con altri docenti che a loro volta avranno a disposizione un d-book. Quindi in questo modo si potranno sia caricare dei contenuti, sia scaricare degli altri contenuti che sono stati realizzati da altri docenti e quindi avere, diciamo così, delle fonti di ispirazione per nuove attività didattiche poi da svolgere in classe.